Non la notte di sicuro, il fidanzamento di Brady e Janet, il loro amore uno per l'altro. Chi può dirlo? Perché domande come queste non possono trovare risposta presso gli accademici, ma si deve fare in modo che sia il cuore a dare le risposte. Ebrei, potete essere giocervi, ha un cuore enorme. E non solo quello. E non solo quello che si deve fare in modo che sia il cuore.